Prende posizione su una vicenda che ha riguardato alcuni cittadini nisseni, la consigliera comunale del Partito Democratico, Annelisa Petitto. Torna all'attacco rispetto alle inefficienze dell'ASP. Il ritardo ne rilascio dei visti per l'acquisto di protesi e attrezzature riabilitative. In sostanza tutto nasce dalle lamentele e vementi di alcuni utenti che si sono recati all'ASP per chiedere conto delle loro pratiche che ancora non erano pronte. È una diffida che nasce da diverse segnalazioni che in questi giorni mi hanno inviato diverse famiglie di nisseni che hanno disabili, anche disabili gravi, e che attendono semplicemente che le loro pratiche finalizzate proprio all'acquisto di protesi o comunque strumentazione riabilitativa vengano esitate da chi di competenza. Da diverso tempo, da troppo tempo, mi permetto di dire, queste famiglie attendono questo visto, quindi una semplice firma per dotare i loro cari fragili di strumentazioni e di comunque protesi che sono essenziali per la vita quotidiana degli stessi.